Oggi nel Parco dei Martiri di Forte Bravetta, nella Valle dei Casali, tra l'Aurelia e la Portuenza, si tratta di un luogo di alto valore storico che secondo noi dovrebbe essere riqualificato e valorizzato, vero Eitan? Assolutamente sì, diverse sono le problematiche che abbiamo riscontrato all'interno del parco, soprattutto molte aree chiuse al pubblico, per questo noi vogliamo che vengano riqualificate per scopi culturali e turistici. Insieme al coordinatore del municipio Roberto Pannella, a Eitan Bondi, vogliamo quindi sottoscrivere un documento indirizzandolo alla presidenza del municipio per chiedere cosa sia stato fatto sino ad oggi di questo luogo, perché merita assolutamente di essere valorizzato in ottica culturale e turistica.